Ciao unicorni, bentornati in questo nuovo video! Come avrete capito dal titolo, in questo video ricreerò i miei vecchi musical.ly che facevo all'inizio. Questo video è lo speciale 1 milione, perché il 3 dicembre su Musical.ly sono arrivata a 1 milione. 1 milione di persone che mi seguono! Io non me ne rendo ancora conto, un traguardo che ho sempre sognato ma che non avrei mai pensato di raggiungere veramente. E invece l'ho raggiunto grazie a voi, solo e soltanto grazie a voi. Quindi grazie, vi ringrazio tantissimo, non smetterò mai di ringraziarvi. Ve lo ripeterò sempre e ricordatevi che siete la cosa più bella che mi sia mai capitata. Comunque non mi dilungo troppo perché ho fatto un post su Instagram dove vi ringraziavo. Se avete voglia di andarla a leggere mi chiamo iris-ferrari-basso, in questo modo qui. Detto questo iniziamo col video. Su Musical.ly mi chiamo in questo modo qui. E seguitemi, mi raccomando, perché... Aiuto, siamo un migliore! Vabbè, ciao, ciao! In questo video ricreerò alcuni dei miei primi Musical.ly, non proprio dal primissimo. Come primo Musical.ly ho deciso di ricreare questo, che è molto imbarazzante. Sono tutti imbarazzanti perché non ero assolutamente capace di fare Musical.ly. Intanto non sapevo neanche tutte le parole. Non sapendo bene le parole non sapevo fare neanche bene i gesti e poi muovevo il telefono in modo orribile. Comunque ritiriamo questo Musical.ly. All right, ok. What is it that you're smoking? Peace it up with this piece of love and this piece of love that you're okay. Yeah, what I am trying to say. 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 All right, ok. What is it that you're smoking? Peace it up with this piece of love and this piece of love like a okay. Yeah, what I am trying to say. Yeah, what I am trying to say. Decisamente meglio. Come secondo Musical.ly ricreerò questo qua, che è ancora peggio di quello prima, è veramente orribile. Le mosse... non so... vabbè, ok, vabbè. So che dopo questo video vi discri... Eh, cosa sto dicendo? So che dopo questo video vi discri... Dis... So che dopo questo video vi... Eh... So che dopo questo video vi disiscriverete. Ce l'ho fatta. Perché sono veramente imbarazzanti, ma non importa, glielo faccio comunque. Questo Musical.ly l'ho fatto in verticale, quindi lo ricreerò in verticale. Yeah, I have a corse, I have a corse, maybe it's the soco, maybe it's the fantasy, maybe it's the past life, maybe it's the limousine, maybe it's the booing, maybe it's the negative, maybe she's a dancer, maybe she's a beauty queen. sul musical.ly che ho ricreato ho fatto una cosa che non avevo fatto quando l'avevo fatto la prima volta ovvero ho messo il rallentatore alla fine perché c'era una parte troppo lunga dove non diceva parole quindi non dovevo fare niente ed era brutto sorridere così senza rallentatore quindi ho messo il rallentatore perché mi piace molto di più l'effetto che fa il prossimo musical.ly che ricreerò è questo qui non so perché io muovo il telefono così tanto ma va bene, guardiamolo insieme to be honest with you man she's a bad thang molto meglio ora ricreerò questo musical.ly che è col telefono appoggiato mi muovo tantissimo in questo modo non so perché e tra l'altro sono in pigiama perché facevo sempre musical in pigiama però a parte questo non so dove appoggiarlo perché il cavalletto lo sto usando per la mia fotocamera però vabbè troverò un modo mettiamo il timer di 5 secondi I'm to play ball so we could ruin them Mama said that it was okay Mama said that it was quite alright I can't believe we had a pay all the night and it was okay Come ultimo Musical.ly ricreerò questa che è la canzone di Musical.ly Chiunque avrà fatto almeno una volta nella vita questa canzone Che quando è nato il Musical.ly facevano tutti Che è Allarm Non sapevo mezza parola Anche qui ho fatto il Musical.ly in verticale Quindi lo farò in verticale Io spero che questo video vi sia piaciuto Se è così lasciate un pollice in su per farmelo sapere E arriviamo a 30.000 mi piace e farò altri video riguardanti Musical.ly I miei vecchi Musical.ly sono molto molto imbarazzanti E sono decisamente cambiata a fare Musical.ly Ma questo non vuol dire che io sia la più brava del mondo Anzi ho ancora moltissimo da imparare E avrò sempre da imparare Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto Perché non c'è motivo per non farlo Io vi mando un grosso bacio Vi ringrazio ancora tantissimo per un milione Perché sono tantissime persone E noi ci vediamo al prossimo video Ciao